buonasera amici ascoltatori benvenuti al moon talk rubrica jurassic parma attentato si si tratta d'attentato no in realtà è una cosa molto più leggera in questa puntata del moon talk avevamo già preparato tutto un discorso su come cosa andasse nella squadra come migliorare e poi è successo questo ultimo fatto che ha completamente distrutto la mia scaletta e tutte le mie slide bellissime e ci troviamo a parlare di un punto a capo di fatto della storia sportiva del parma un nuovo punto a capo infatti sono stati allontanati ormai lo sapete già tutti i vertici della dirigenza del parma calcio con preso allenatore con preso presidente scala che ha deciso di darle dimissioni e da adesso si riparte si scrive un nuovo capitolo nella rincorsa verso la serie b il titolo della puntata di oggi francesco che ringrazio è dove essere biologico e invece c'era olio di palma è un piccolo gioco di parole forse probabilmente c'era olio di parma c'era troppo olio di parma in quanto ovviamente questa dirigenza era collisa in questo monoblocco e se le cose quindi non vanno bene come era questo caso l'unica soluzione da parte della dirigenza il ragionamento della dirigenza è stato appunto questo di rimuovere della proprietà diciamo della proprietà giusto di sollevare dall'incarico tutti i vertici sportivi compreso il presidente scala che ricordiamo non è stato licenziato ma è stato insomma si è dimesso per coerenza non avendo più sui uomini insomma lui aveva detto siamo tutti insieme uno per tutti tutti per uno aveva detto una sorta di adesso uccideteci tutti sai col cartelloni e in effetti è stato così di fatto però non è un dramma questi signori non vanno sotto un ponte verranno comunque pagati e comunque non succede un dramma se non quello sportivo sono rapporti professionali che finiscono ma comunque è un forte segnale della società che dice così le cose non stanno andando bene noi vogliamo comunque dimostrare che possiamo compitare per la Liga Pro e per la Serie B e quindi vogliamo provarci fino alla fine è un ragionamento che ti piace Francesco ti senti di condivido da parte della società oppure credi che sia una cosa esagerata no no sì sì le società ormai sono delle piccole aziende quindi per forza al di là degli affetti tra le persone tra i vertici se l'azienda non va bisogna comunque fare dei cambiamenti questo è un po' i proprietari sono quindi dei padroni d'azienda anche molto ad alti vertici e hanno ragionato da padroni d'azienda per un po' sono stati in disparte perché hanno sempre detto che non essere persone del mondo del calcio quindi hanno scelto delle persone per dirigere ma quando poi chi dirige non dà segni di miglioramento comunque non dà segnali che si possa raggiungere l'obiettivo ovviamente poi la proprietà ha tutto il diritto insomma per guardare gli interessi dei parmigiani diciamo detto questo io penso che comunque questa società avrebbe potuto lottare per la serie B fino alla fine del campionato è stata una scelta secondo me molto forte e che poteva anche non essere fatta perché comunque non stavano facendo un lavoro così pessimo così inguardabile ovvero le critiche le abbiamo sempre fatte però erano critiche migliorative non è che stesse andando il parma stesse rischiando di retrocedere stava faticando a trovare gioco non l'ha mai trovato devo dire c'erano degli evidenti problemi nella formazione della rosa perché ci sono delle lacune che sono evidenti però comunque era una formazione che fino a settimana scorsa era un punto dalla vetta adesso non facciamo non vediamo una situazione così drammatica si è deciso di cambiare ha perso 4 punti in due giornate e ha preso 4 gol e soprattutto insomma i fischi del Tardini secondo me hanno convinto anche la dirigenza che così non stava andando e così non fa contenta la squadra e i tifosi detto questo quindi io ho titolato attenti però che non si discuta mai l'amore e l'affetto per queste bandiere ovvero è una esclusione professionale ma quello che questi signori hanno fatto sia da giocatori che da allenatori che da dirigenti per il Parma è sotto gli occhi di tutti indiscutibile l'impegno è stato messo al 100% io mi sento sempre a riconoscerglielo sono persone capaci a Pollone comunque è un allenatore che io reputo comunque buono ha avuto un po' la sfortuna di trovare una squadra che lo stesse seguendo questo però capita ad ogni allenatore in ogni squadra può capitare e Minotti comunque è stato ha fatto un buon lavoro Scala ha fatto un lavoro buono dal punto di vista delle tifosi forse in società è stato poco di impronta si è sentito poco comunque almeno questa è stata l'impressione però comunque sono state gente i clienti che hanno creduto in questo progetto è andato al 100% per tentare di portarla a casa e allora il nostro più sincero affetto perché questo non mancherà mai ecco detto questo cosa ci aspettiamo ora Francesco da dove dobbiamo ripartire ripartiremo soprattutto sicuramente da Ferrari che oggi ha fatto una conferenza stampa in cui ha un po' tirato le fila ha detto che adesso ricostruiranno troveranno i migliori soggetti disponibili per poter ottenere quello che loro hanno progettato ripartiamo da Carra che è l'unico che è rimasto un po' nei vertici poverino e ripartiamo da Lucarelli che in campo ha dimostrato delle buonissime prestazioni ma che non dimentichiamolo Lucarelli è rimasto a Parma perché come diceva anche in passato durante il crack Parma era rimasto perché lui aspira a un ruolo dirigenziale in società adesso che la strada è spianata sarà sicuramente molto più motivato a dare il massimo non che non lo fosse già da prima però noi crediamo che questa per il capitano fosse insomma la situazione migliore adesso ha i vertici azzerati se sogni un posto da dirigente questo è il momento ecco quindi che dimostra di esserne almeno in grado gli errori da risolvere subito abbiamo riflettuto su quello che Mr. Morrone adesso a cui affidata la squadra sembra fino alla partita di sabato temporaneamente a meno che non si trovi in Mr. Prima di sabato no no assolutamente hanno detto che sabato ci sarà Morrone grande tra l'altro Morrone è felicissimo detto di questo incarico non vedeva l'ora è un sogno che si avvera pensa a Morrone se avesse deciso di continuare a giocare comunque la Berrettino si è allenata oggi no diciamo così e vabbè li farà allenare tutti insieme ti devo dire cosa risolvere subito non vogliamo più vedere le distrazioni la troppa sufficienza nell'approccio alla partita le ingenuità passaggi sbagliati colpi di tacco su 4 a 1 si può essere che la squadra è più lenta ma non si possono sbagliare i passaggi stai perdendo 4 a 1 rovesciate colpi di tacco ormai tutti allo sbando quindi questa è una cosa che sicuramente non vogliamo mai più vedere identità appunto di squadra il fatto di aiutarsi il fatto di essere disponibile uno per l'altro di avere un ruolo preciso da fare e farlo fino in fondo non che a un certo punto ti trovi corapi in fondo dall'angolo perché non ne ha più mazzocchi che cammina a destra canini che a un certo punto te lo trovi a centro campo e non torni a difendere identità di squadra siamo Parma lo dice lo speaker dimostravo anche in campo ecco e poi cosa vado a risolvere andiamo avanti abbiamo come è successo ti sei inceppato un nuovo modulo soprattutto perché questo è il fallimento totale del 3-5-2 noi l'abbiamo detto dall'inizio del campionato quello che doveva essere 3-5-2 perché non si è mai capito non si è mai capito un po' c'è questa squadra difendeva di fatto a 5 e non attaccava mai aveva Calaiò ed Evacuo davanti erano due colonne pesantissime tratta nello stesso punto che non riuscivano neanche e quindi c'era qualcosa che palesemente non andava il modulo io spero che venga messo in soffitta insomma questo modulo ha dimostrato di non essere idoneo andiamo avanti cosa possiamo risolvere subito gli inserimenti senza palla che poi sono la chiave di ogni squadra che si rispetti non ho mai visto in questa stagione un inserimento senza palla un filtrante la squadra è lenta e la chiave insomma del gioco divertente è l'inserimento senza palla ma non abbiamo neanche Pellè avevamo Evacuo ma nessuno gli dava la palla vabbè andava così poi cos'è che dobbiamo migliorare responsabilizzare e motivare i giocatori ovviamente non vogliamo più vedere i giocatori svogliati Miglietta nell'ultima partita è entrato in campo al posto di Giorgino non si è capito perché ha praticamente continuato ad essere in panchina Miglietta pure entrando in campo ognuno deve giocare nel suo ruolo giustamente perché abbiamo visto Nocciolini fare il terzino abbiamo visto insomma ognuno fare sembrava un po' tipo il cappellaio matto cambiate i posti e questo non dà un'identità di squadra non dà una formazione base non dà le certezze alla squadra e quindi queste sono le prime cose che secondo noi dovremmo essere attenti a trovare subito ma pensiamo al domani pensiamo al domani oltre Morrone che magari poi inizia a vincere 5-0 tutte le partite diventa il mister ufficiale mai dire mai di solito poca può succedere Simone Inzaghi nella Lazio ha iniziato a fare così e poi è diventato mister del mister ufficiale profilo del mister ideale per questo Parma cominciamo a pensarci ovviamente c'è poco da dire il profilo del mister ideale a mio avviso credo anche a di Francesco per questo Parma non può essere altro che Guidolin se fosse possibile riuscire ad arrivare a Guidolin sarebbe il top del top perché ti permetterebbe di programmare a lungo termine di avviare un discorso di crescita nella squadra sa già inserirsi nello spirito di Parma nella città di Parma, piazza della piazza è un mister estremamente competente con un profilo internazionale è un mister di serie A è un mister di serie A però se tu aspiri a una progettazione per arrivare in serie A devi avere un mister che comunque ti può fare programmare perché questo Parma di oggi non ha futuribilità è un Parma che... lo devi pagare, lo pagaranno è un Parma, lo devi stimolare, lo devi pagare è un Parma che è stato fatto per vincere questo campionato e poi boh, cioè non abbiamo un giocatore che puoi dire beh l'anno prossimo può fare il salto di qualità ne abbiamo veramente pochi invece con Guidolin puoi iniziare a programmare per più anni soprattutto Guidolin comunque ricordiamoci che ha litigato con la passata presidenza quindi sarebbe comunque un segno di rottura con il passato continua a mantenere insomma questo spirito e sarebbe veramente un allenatore che ha fatto benissimo a Parma ha lasciato un bellissimo ricordo e che rivedremo volentieri in panchina pensando agli altri mister senza cambiare slide ovviamente sono fatti tanti nomi io Crespo non lo vorrei per favore no non bruciamocelo non bruciamo Crespo per favore poi non si può affidarsi agli affetti personali poi è sempre un dolore quando ti porti a dover allontanare i allenatori sono come i gatti non è vero ma io mi affezione ai gatti e poi Zeman perché i gatti oggi ci sono domani magari vanno via trovano qualcun altro Zeman è un'ipotece comunque colorita che sicuramente darebbe questo spirito di divertimento che la società sta cercando di imporre ovviamente Zeman finché tutto va bene è fantastico quando inizia a perdere tutte le partite 4-0 un po' di meno bisogna stare attenti darebbe comunque sicuramente più spazio ai giovani però sarebbe più che altro un allenatore da inserire in un campionato da iniziare da zero secondo me in corsa Zeman a Zeman piace scegliersi i uomini giovani farseli comprare studiarsi i giocatori e in questa squadra non so se riuscirebbe a fare bene da subito però a me Zeman è sempre piaciuto tantissimo quindi Deglio Rossi si è fatto un nome di Deglio Rossi come molto probabile a me non piace devo dire è un allenatore molto preparato molto competente ma è poi una parabola discendente negli ultimi prestazioni è stato allontanato spesso l'occasione per rifarsi sì ce ne ha avute tante però di occasioni per rifarsi e non ha saputo dimostrare diciamo che dopo la Fiorentina Deglio Rossi non è un po' più stato lo stesso non lo riconosciamo più abbiamo Corini anche si è fatto il nome di Corini allenatore preparato Reia Reia va bene anche Reia Ballardini allenatore che mi piace molto devo dire se fosse possibile Ballardini mi verrebbe molto favorevole Mandorlini altro allenatore che attenzione potrebbe essere interessante Zola stessa cosa che vale per Crespo no facciamo di no stessa cosa Walter Zenga no lo scherzo vuole Zenga esatto e poi svincolato c'è anche Franco Colomba ma comunque Colomba adesso arriva Natale pensiamo c'è Pasqua magari prossima partita prossima partita contro l'Ancona in casa dell'Ancona con formazione di Morrone Ancona che milita 17esimi in campionato non è sicuramente la formazione cioè il Parma può farcela diciamo che i giocatori l'hanno più scuse ecco esatto adesso dipende tutto da loro se vogliono vincere la vincono questa partita come al solito il loro segnale l'hanno dato sono stati praticamente gli è stato detto adesso sono fatti vostri esatto adesso se volete vincere vediamo cosa sapete fare in campo la formazione che vorremmo vedere la settimana prossima cioè sabato contro l'Ancona potrebbe non essere questa perché ci sono molti infortunati che stanno recuperando comunque la formazione tipo che vorremmo vedere sarebbe di questo genere ovvero Zomers c'era Garufo una volta c'era Garufo è infortunato anche lui tutti spaccati mazzocchi mazzocchi sulla destra se riuscirà a recuperare dall'infortunio Giorgino speriamo che non venga più sottuito a questo punto Corapi anche lui se riuscirà a recuperare dall'infortunio noi abbiamo fatto un piccolo strappo alla regga con un giocatore fuori ruolo l'abbiamo messo ma Barai perché ha la capacità di dribbling e secondo me sulla fascia potrebbe fare molto bene poi su Food Manager Barai gli ha messo fascia se lo dice Food Manager anzi può fare tutto ci fidiamo attaccanti ricordiamo che non ci sarà Calaiò domenica perché è diffidato quindi Nocciolini e Evacuo che avrà finalmente l'opportunità di giocare come punta come piace a lui ecco quindi però sulle fasce sicuramente sarebbe una formazione interessante vogliamo sapere le vostre opinioni vogliamo che voi ci seguiate sempre perché comunque è una cosa che per noi fa piacere ecco così Francesco devi dire dell'altro? no è stato detto tutto è stato detto tutto? a Dio piacendo ci vediamo mercoledì prossimo al Moon Talk passate una buona serata e sempre un caloroso ringraziamento alla società passata che ha appena lasciato Collecchio ciao a tutti No I don't think so am I what I was supposed to No I don't think so am I what I was supposed to No